tornando al discorso sono sempre qua a smadonnare sul water del furgo tornando al discorso fortunatamente nel video precedente pensavo che fosse che si fosse rotta l'apertura dello scarico del bagno interno del furgo cioè pensavo si fosse rotta il water diciamo facendola breve e invece non ci avevo pensato prima nel video precedente ma ci ho pensato adesso mi è venuto di guardare il tappo che sarebbe questo schifo qui della cassetta e mi ho visto c'era delle viti ho svitato effettivamente se non so come che a regola ripeto come ho detto nel video precedente queste cassette le fanno sono per la cacca ma sono proprio cassette di cacca in tutti i sensi perché non durano niente a regola perché questa proprio quella prima insomma questa ha circa un anno di vita poco più anno e due mesi 12 a 12 mesi si è completamente spaccata tutta c'è trebbiata tutto il meccanismo dentro io che smontarlo l'ho smontata ho guardato c'era questo tappo qui ora va bene rovesciato comunque c'era questo tappo che invece di stare pari invece di stare pari stava tutto inclinato da una parte quindi vuol dire che queste cassette per la cacca sono proprio cassette di cacca anche perché come sono fatti o per lo meno questa che da questo problemino vabbè comunque a questi punti il danno c'è siamo sono sicuro che è un danno minimo una volta cambiata la cassetta messa nuova il problema non si dovrebbe ripresentare ho smontato tutta ho smontato la parte sopra infatti qui c'è il tappo che è il tappo lì è la guarnizione che va dintorno e questo coso qui di plastica è diciamo lo scorrimento del tappo lì che quando si apre e si chiude queste sono le fornici laterali da fissare qua le viti d'ho messe tutte qui che io con le viti ho un brutto rapporto cioè che le perdo sempre a questi punti il danno è minimo 130 140 euro 120 ora non mi ricordo il modello comunque alle brutte sento un posto il gruppo dei camperiste c'ho su facebook che il modello è ora mi sembra sia il 220 l 215 220 l qualcosa del genere non mi ricordo come vabbè comunque la cassetta a questi punti non è un problema trovarla più che altro sarà la menata di aspettare qualche giorno che arrivi e come ho detto nel video precedente viaggio col finestrino con lo bro invece chiuso fino in fondo che ripeto la manopola picchia p quando è chiuso fino in fondo la metto la manopola io mi lascio il telefono metto la monopolina con la chiusura più a metà della guida ora non capisco perché ecco con la chiusura a metà perlomeno un filo d'aria mi passa e non ci muoio sfissiato tutte le volte di centro questi punti il danno è minimo comunque che palle ragazzi mamma mia pensavo peggio e meglio così vabbè ciao